Ciao, in questo video verranno utilizzate le triadi maggiori, minori e sospese sulla struttura armonica di Time Remembers, il brano che si presta molto bene a questo scopo perché è composto da accordi minori settimi e accordi maggiori. Nella prima parte ci saranno tutte le triadi nel primo chorus, nei successivi solo triadi sospese, poi maggiori e poi minori in modo che l'orecchio possa sentire bene l'effetto che queste triadi danno di volta in volta, la differenza che si ottiene utilizzando le varie specie di triadi come similitudini. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!